il prossimo brano è tratto dal secondo libro di samuele davide appresa la notizia della morte del re saul e suo figlio jonata li piange scrive il testo biblico con questo lamento il tuo vanto israele sulle tue alture giace trafitto perchè sono caduti gli eroi non fatelo sapere ingat non l'annunciate per le vie di ascalon saul e jonata amabili e gentili né in vita né morte furono divisi figli di israele piangete su saul jonata per la tua morte sento dolore l'angoscia mi stringe per te fratello mio jonata la tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna perchè sono caduti gli eroi sono periti quei fulmini di guerra ora dal punto di vista musicale quando la cadenza di fine versetto è cromatica ascendente cioè si ha un senso di determinatezza quasi una cadenza ben affermata però a questo tipo di determinatezza fa riscontro l'alternarsi di ampi intervalli nel complesso espressione declamatoria inflessioni languide descrivono con efficacia impareggiabile lo stato d'animo di davide che sinceramente piange la città la città la città il il si per il si per il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.